Il 26 novembre del 2024 pensavo fosse un ibrido data la dentatura piccola di questo canide, poi parlando con Paolo Forconi, grande esperto nazionale, mi ha detto che è proprio un cucciolo di 6-7 mesi di lupo che anche se ha la parte nera, la mascherina facciale nera, è proprio tipico dei cuccioli di lupo, gli mancano purtroppo le zampe anteriori e sicuramente è morto in una tagliona o avvelenato, non si capisce la sessualità, ci troviamo nelle serre calabre e purtroppo anche oggi una scoperta macabra di questo povero cucciolone di lupo selvatico. Il lupo è importante, è un bonificatore della natura, purtroppo quando succedono queste cose è davvero brutto vedere animali così morti nei boschi, dall'odore me ne sono accorto, quindi vedete questo cucciolone di lupo morto sicuramente in una tagliola perché sennò avrebbe avuto le zampe anteriori. Dai canini sembrava un cane o un ibrido e invece un cucciolo di lupo di 6-7 mesi.